Ciao a tutti ragazzi io sono Suriv e benvenuti in questo nuovo video aggiornamento dell'isola degli iscritti e del display degli iscritti stavolta voglio iniziare dal display sia per farvi vedere tutta l'isola dopo grazie al nostro lanciatore dell'Elytra sia per dirvi una premessa che questo video lo sto registrando di venerdì quindi se c'è qualcuno che manca nell'isola che ha compiato il modulo sappiate che lo sto registrando appunto il venerdì quindi se qualcuno l'ha compiato il sabato non verrà inserito oggi ma nel prossimo video cioè settimana prossima di solito il video lo registro il sabato ma questa volta domani cioè ieri per voi non sarò a casa quindi lo pre-registro oggi e ci sono già oggi un bel po' di membri da aggiungere se non sbaglio una cinquantina di membri ho aggiunto oggi ma direi di partire prima dal display degli iscritti che siamo aumentati veramente di tantissimo non so com'è possibile che sia aumentato di così tanto ma vi ringrazio veramente a tutti e il numero attuale di iscritti se non sbaglio supera i 1700 vado a vederlo subito esatto attualmente siamo 1758 siamo aumentati di più di 300 in una settimana ragazzi una cosa incredibile veramente quindi qua ci va un bel 7 quindi 5 e 6 aumentiamo ancora di 1 7 1750 e facciamo partire la leva così diventa un bel 8 lì lì dovrebbe comparire un 5 a breve e i 5 perché non c'è comparso intanto vediamo lì di fermarlo all'8 ok devo caricare i chunk magari perché non compare il 5 facciamo una cosa del genere ok vediamo di premere il bottone dovrebbe adesso comparire un 5 lì ok non possiamo superare questi iscritti vediamo se questo funziona intanto 7 perfetto e un bel 8 qua e questo perché non funziona risolvo subito ragazzi ecco il motivo perché non funzionava c'è un blocco volante che non so come c'è finito lì comunque questo qua è tutto ciò che di solito non vedete quando vado ad aggiornare il display tutto questo circuito qua che c'è sotto fa aumentare il display quindi torniamo indietro prendiamo la terra che ho usato da qui ok perfetto così e perfetto adesso premendo il bottone dovrebbe comparire un bel 5 eccolo qua perfetto 1758 iscritti e ancora una volta grazie a 300 iscritti che si sono iscritti in questa settimana e anche a tutti i vecchi iscritti che continuate a sostenermi con questo canale e questa fantastica serie ma direi di passare ormai ai nuovi membri che ho aggiunto oggi vediamo se funziona l'ho lanciata dall'altra parte volevo arrivare lì sopra ok perfetto vorrei voglio prendere il lanciatore quindi andiamo da questa parte e vi faccio vedere quanto è lunga l'isola degli iscritti così ve ne rendete conto oggi ho aggiunto anche altra terra e ho finito la terra non ci crederete ma ho finito la terra guardate un po' questa è tutta l'isola degli iscritti che si sta prolungando veramente per tantissimo eccolo qua questa è la fine oggi ho aggiunto un po' di grassa anche in questa zona qua oltre alla terra normale e ho finito la terra ragazzi non ci crederete ma non ho più terra per proseguire l'isola quindi dovrò anche farmare della terra d'ora in poi oltre ai sapling che uso qua quindi direi di partire con i nuovi membri che oggi sono veramente tanti e dovrebbero iniziare da qua quindi partiamo subito da passiamo da quella parte faccio prima lanciare un enderpearl per arrivare lì perfetto ecco qua Gabbo 24 G Tasso Cricro poi abbiamo Ettore G Dark Memes MNJ XX Rinaldo XX Marco Ricky Pro 7 Alessiox 24 The Comic Gamer Mr. Blazer Hexagon poi abbiamo Re Willy 97 Lore Marce R Cesta 27 Matt Mumu ok poi abbiamo Andre Salurso 88 Ale Palaz G C Filippo Agostini Lori Capo Bruschetta BG Gamer Manu Luca Ventu Lexio Giacopo 96 e Franzi 207 ho aggiunto due alberi in più di troppo ma se continuate così presto saranno utilizzati anche questi due quindi anche a questo punto del video vi ringrazio ancora una volta e benvenuti tutti questi qua nell'isola degli iscritti e sul canale grazie per aver esservi iscritti anche e se volete essere giunti anche voi in quest'isola degli iscritti vi basta compilare il modulo che trovate in descrizione e come sempre lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto questo video se volete essere inseriti nell'isola compilate il modulo che trovate in descrizione io come sempre sono Surif ciao a tutti